Di Eugenio Montale, dove comincia la carità. Questa violenta raffica di carità che si abbatte su noi è un'ultima impostura. Non sarà mai che essa cominci at home, come ci hanno insegnato alla Berlitz. Mai accadrà che si trovi nei libri di lettura. E non certo da te, malvoglio, o dalla tua banda. Non da ululi di tromba, non da chi ne fa una seconda pelle, che poi si butta via. Non appartiene a nessuno la carità. Su a pari la bolla di sapone, che brilla un attimo, scoppia. E non sa di chi era il soffio. Grazie. Grazie.